Un delitto non facilmente decifrabile perché imprevedibile senza logica. Così, in conferenza stampa, il questore di Pescara Luigi Liguori ha commentato la sparatoria che si è consumata ieri pomeriggio a Pescara nella centralissima Piazza Salotto, all'interno del locale Casa Rusti, dove Federico Pecorale, 29enne, originario di Montesilvano Madani, residente in Svizzera, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro un dipendente del locale, Yalfri Rosado Guzman, 23enne di origini dominicane ma residente a Chieti, spazientito, secondo una prima ricostruzione dei fatti, dai tempi di attesa del suo ordine. Attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico per estrarre due dei vari colpi di pistola da cui è stato raggiunto, il dipendente del locale, sedato in prognosi riservata e ancora in gravi condizioni, mentre il suo aggressore è attualmente rinchiuso nel carcere di Pesaro, dopo essere stato rintracciato dalla polizia a seguito di un lavoro congiunto tra le forze dell'ordine e le questure di Pescara, Pesaro, Fermo e Ancona. Pecorale, incensurato, che alloggiava in un hotel poco distante dal locale dove si è consumato il fatto, è difeso dall'avvocato Florenzo Coletti, che parla di problematica psichiatrica per il suo assistito. Dopo la sparatoria, il 29enne è fuggito a piedi per poi rifugiarsi da alcuni parenti e infine allontanarsi in taxi con l'intento di tornare all'estero, ma la sua fuga è stata bloccata dagli agenti della polizia stradale nell'area di servizio di Metauro della 14 in provincia di Ora dovrà rispondere di tentato omicidio e porto dell'arma. C'erano dei profili di sicurezza pubblica che andavano attentamente valutati in relazione a quella che è stata la modalità di commissione di questo delitto, un delitto apparentemente ingiustificabile. Quindi sono stati attuati dei protocolli operativi e dei dispositivi di sicurezza pubblica anche per evitare che la propagazione di questo delitto potesse essere steso anche ad altre aree del territorio della nostra città e della nostra regione. Come siete riusciti a mettere in sicurezza il tassista? La cosa più importante era non far preoccupare il soggetto che stavamo cercando, quindi non abbiamo fatto avvicinare l'elicottero, non abbiamo fatto posti di blocco. La scelta che ho fatto, che per fortuna si è rivelata vincente, è stata quella di contattare il tassista essendoci procurato il numero di telefono ed avendo agito in massima sicurezza senza che il soggetto se ne accorgesse. Ciò ci ha consentito di portare il soggetto dove meglio ci aggradava, cioè in un'area di servizio, di far sì che il tassista abbandonasse immediatamente la vettura dall'area di possibili operazioni perché in quel momento non sapevamo se avesse armi addosso come già aveva avuto qualche ora prima e se fosse disposto ad usarle come poteva essere probabile, atteso che l'avesse già fatto. Ottenuto questo gli operatori della polizia stradale in una cornice di sicurezza offerta da moltissime pattuglie delle squadre mobili di quattro questure cappeggiate da quella di Pescara hanno operato. Gianluca Di Frischi, a capo della squadra mobile di Pescara, episodi come questo quanto possono preoccupare e destare allarme nella cittadinanza? Episodi come questo, come ha detto il signor questore, non riguardano la sicurezza pubblica in quanto tale nel senso che sono imprevedibili, non è un reato legato alla criminalità, infatti la persona era incensurata e diciamo che è un episodio imprevisto e imprevedibile, per cui la nostra prima preoccupazione da un punto di vista investigativo è stata trovare subito questa persona prima che potesse commettere altri gesti imprevedibili e la difficoltà è stata proprio quella, nel senso che è una persona che arriva dall'estero senza precedenti, quindi sconosciuta, possa fare un gesto apparentemente immotivato, quindi la preoccupazione è stata appunto cercare di trovare subito questa persona per impedire che potesse essere commesso qualche altro gesto in consulta.